ciao ragazzi tanto è l'efficacia quanto tanta è la difficoltà è vero che tutto si può imparare ma ci vuole la base ad ogni cosa in questo caso devi avere forti ma forti gli addominali per la serie questi sono esercizi per i medio avanzati quindi non solo devi essere a posto devi essere in forma ma devi essere anche bravo per eseguirli appunto dicevo ragazzi sono esercizi medio avanzati dove la difficoltà è elevata ma è elevata soprattutto per lo stress articolare quindi attenzione a non avere nessuna problematica se ne hai qualcuna o hai qualche dubbio mi scrivi giù nelle descrizioni io prima di chiudere questo video volevo ringraziare il mio team grazie a loro che stiamo procedendo in questo grande progetto quindi rimani collegato vedrai ci saranno un sacco di novità a questo punto non mi rimane che dirti grazie a ricordato questo video iscriviti al canale o al massimo lascia un mi piace e noi ci vediamo alla prossima allenati bene ciao 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 Grazie. Grazie. Grazie.